Il primo dicembre sarà la giornata di prevenzione contro l'AIDS, siamo in subsonica, ne avranno già parlato in tanti seriamente, quindi io sarò molto rapido e molto veloce, insieme ai miei amici vi dico questa, ragazzi, è già un mondo di promiscuità, io poi lo so come siete, voi andate nei locali, conoscete la tipa, conoscete il tipo, voi vi piace un po' ubriaca e ci parlate all'orecchio, così allungate la mano subito e finite magari a fare delle cose che se non state attenti possono portare veramente un sacco di danni, quindi vi dico solo due cose, Prevenzione, informazione, informazione o è prevenzione, mi raccomando